L'11 marzo parte la quarta edizione del nostro corso di alta formazione che quest'anno abbiamo deciso di riservare completamente alle tematiche del paesaggio. Il corso quindi avrà ad oggetto il diritto del paesaggio e come gli anni scorsi sarà rivolto ai professionisti del settore e ai funzionari delle pubbliche amministrazioni. La scelta di concentrarsi sul paesaggio è legata anche alla stagione del PNRR che stiamo vivendo e all'azione che si chiede a tutti gli enti pubblici. Per questo motivo oltre a trattare dei temi classici, delle questioni paesaggistiche, dal piano paesaggistico ma soprattutto alla gestione dei vincoli con tutti i problemi legati alle autorizzazioni paesaggistiche e all'imposizione dei vincoli provvedimentali che sono sempre più frequenti abbiamo deciso di dedicare tutta una serie di giornate al confronto tra il paesaggio e le altre realtà dell'uso del territorio e quindi paesaggio energie rinnovabili, paesaggio difesa del suolo, paesaggio gestione della montagna, paesaggio e rigenerazione urbana, paesaggio e governo del territorio, paesaggio, siti UNESCO e centri storici e così. Naturalmente per rispondere alle esigenze e ai problemi del momento abbiamo previsto la possibilità di seguire il corso tanto in presenza quanto online. In ogni caso quello che sarà garantito sarà la discussione, il confronto con i massimi esperti del settore che come ogni anno sono i nostri punti di riferimento anche per questa materia.